Allora la fantasia secondo me è fondamentale in questo lavoro e prendo ispirazione nella vita di tutti i giorni anche semplicemente facendo una una passeggiata e la tecnica è fondamentale giustamente per riuscire a realizzare i progetti che che mi vengono in mente ecco un consiglio che posso dare a chi vuole intraprendere questa carriera è di esercitarsi tanto Il Balloon Party Days per me non è solo un corso di formazione ma è un'esperienza unica perché ci dà la possibilità di conoscere tanti artisti che provengono da tutto il mondo e non solo chi fa i corsi di formazione ma anche tantissime altre persone che fanno questo lavoro qua questo mi consente di potermi confrontare e in questo lavoro penso che sia importantissimo perché ci aiuta a motivarci andare avanti crescere e avere sempre nuovi punti di ispirazione